Ragazzi prima di iniziare con il video volevo dirvi che questa domenica 25 febbraio saremo con il nostro show made in internet qui a Milano Dico qui perché io sono di Milano, Alphabric, quindi vi lascio qua sotto il link per andare a comprare i biglietti Ne mancano pochi, quindi se siete interessati affrettatevi e buona visione Ciao a tutti, ciao a tutti, benvenuti in questo nuovissimo video di Minecraft Oggi siamo in una mappa che si chiama Escape Room Il disclaimer è che potrebbe essere corta se noi siamo estremamente intelligenti Siamo estremamente intelligenti? La risposta non la so ancora Sulla mia autostima mi direbbe di dire di sì Però poi tutti pensano di essere più intelligenti degli altri e tutti fanno delle figure di merda Quindi siamo tutti stupidi alla fine ragazzi Però non è questo il senso, ci sono tre stanze e noi dobbiamo scappare dalle stanze Ci sono tre regole, non bisogna citare, bisogna stare in Semino Panaggles Venture Mode E credit me for map if recording Come cazzo, cosa si chiama questo? No a stare il pietro creditato Strunzo, lo mettono nelle regole Ma allora questo è il livello 1 Il nostro obiettivo uscire dalla stanza E qui c'è una cesta con dentro un bottone Che si può piazzare dentro il purple block E qua c'è un lingotto Mi sa che se io faccio così Ah, mi sa che una stanza non è una stanza e basta Perché ho mai dato un lingotto di ferro Però secondo me c'è un qualcosa di più In tutto questo E' esatto che non lo sapevo Due lingotti di ferro Quindi un lingotto di ferro è tipo il metodo in cui lui decide Ah, qua lasciamo aperto Il metodo in cui lui decide chi è bravo e chi no Nel senso, chi ha fatto più punti No, qua non c'è assolutamente niente Ci sono dei vasi per terra E c'è Ci sono dei calderoni Con quale ragionamento io Con dei calderoni Dovrei Allora, non posso spagare niente Perché siamo in survival Ho due lingotti di ferro Con i lingotti di ferro cos'è che posso fare? Bella domanda Potrei fare le cesoie Con le cesoie posso fare che cosa? Abbattere la lana Vedete lana da qualche parte? Io non vedo lana da nessuna parte Purtroppo, aggiungerei E anche se ci fosse della lana Di sicuro non potrei abbatterla Perché siamo in adventure mode Ripeto, adventure mode Adventure mode Ripeto Comunque Magari c'è da qualcosa con i fiori Ci sono fiori rossi e fiori bianchi Qua ce ne sono Uno bianco, due rossi, uno bianco E qui si alternano E qui invece Bianco, due rossi, bianco Oppure Bianco, rosso No, rosso, bianco, rosso, bianco Qua c'è il rosso, bianco, rosso E se in realtà Io non devo fare altro che ottenere Allora Lo so che è un aggiornamento contorto Però Se guardate Lì Non c'è il legno Lì dovrebbe esserci il legno Ma non c'è il legno Perché c'è un Redstone comparator Secondo me E per attivare un Redstone comparator Abbiamo bisogno Di mettere l'acqua Anche qua dentro Ma per mettere l'acqua qua dentro Ho bisogno di Altra Un'altra Più che altro Un altro lingotto Non un'altra Quindi o qua sotto C'è un altro bellissimo E simpaticissimo Pezzo di ferro Che io ne avevo visto E potrebbe essere Oppure c'è qualche tipo di problema Qua sotto Non c'è assolutamente niente C'era solamente uno Qua dentro C'era solamente uno Qua non posso fare nulla Posso prendere i fiori Ha senso questa cosa? Non so se ha senso questa cosa Il mio ragionamento è giusto Secondo me Manca una cesta Ah Ok Perfetto Allora posso fare Il mio bellissimo secchiello E prendere l'acqua Un pezzo Non posso prendere l'acqua E come cacchio faccio? Prenderà da qui forse? Ah ok Dovevo proprio levarla completamente l'acqua Va bene? Sono contento lo stesso Livello numero 2 Quindi il primo livello Si è stato relativamente semplice Se non per quella cesta Che non trovavo Allora Qua ci sono delle Lampade Dei bottoni Qua c'è lo spazio Dove potenzialmente Ci potrebbe essere una cesta Ma non c'è la cesta C'è un ender chest Che è vuota E anche qua ci sono spazi vuoti Sotto non c'è assolutamente niente Ci sono delle anvil Ma non c'è nulla qua dentro Qua sotto magari Poteva esserci una cesta Però non c'è assolutamente niente Qua ci sono delle Ah ok Qua sopra c'è una cesta Ah ma è messa la freccia Bravo Grazie complimenti Allora io salgo E prendo le cose dalla cesta E che è successo Esploso qualcosa Ogni volta che apro quella cosa Succede qualcosa Non ho capito bene cosa Però sento l'esplosione Però non capisco perché Ma c'è qualcos'altro No è l'unica cesta che c'è Però non me la fa aprire Allora Ah no ok scherzavo Mi ha aperto la porta I bottoni fanno qualcosa Non fanno niente Questa potrebbe essere una faccia Due occhi La bocca E questi sono i baffi Comunque vediamo se dentro le fornaci C'è qualcosa di utile Mi sembrerebbe di no Io direi andiamo avanti Ma è quell'energia però potrebbe risultare utile Oh mio dio No è un labirinto Sembrerebbe essere una caverna Più che un labirinto Allora io Come buona regola Quando faccio un labirinto Tengo sempre la destra E a una certa Troverai l'uscita O almeno questa è la regola Oddio ma che è sta stanza Vabbè andiamo avanti Livello numero 3 Ah che c'è Benissimo Venite alla destra ragazzi Che siete tutti contenti E qui però abbiamo un problema C'è una cesta di nel mezzo Ma c'è un muro invisibile Questo dovrebbe essere l'ultimo livello Tra l'altro di questa mappa Qui abbiamo un minecart Che viaggia da solo E fa le sue Non viaggia da solo in realtà Dovei mettermi dentro Perché viaggiasse da solo Forse No neanche Vabbè non viaggia da solo Abbiamo degli sugar box Con dentro Nulla Quanto pare Questo non si può manco aprire Ho un bottone Nel mio inventario Per un qualche motivo E me lo sono accorto Per fortuna Ci sono 4 pezzi colorati Di Terracotta No di concreto Scusate Posso cambiare il colore Hanno 3 No 4 colori Possono avere Ok interessante Ci sono dei note block Questo non fa rumore però C'è una pressure plate Ma non so se fa effettivamente qualcosa Posso salire qua sopra No Aspetta Questo posso metterlo su Da A blocco di diamante Quindi uno di questi due Però aspetta Qua c'è scritto twitter youtube Quindi tipo la stanza finale Io i blocchi di diamante Ce li ho Sono due Però non voglio rischiare Di piazzarlo dove Non va piazzato Comunque secondo me Questi sono i colori da prendere I fiori Io metterei Rosa Rosso Arancione Bianco Bianco Ok E ora mi ha aperto Questa cosa qui Posso dormire Oddio Che dormo a fa Non posso dormire Magari si è aperto qui Ok No Cos'è un labirinto Anche questo Sembrerebbe essere un labirinto invisibile Incredibile Dove sto andando No Tieni sempre la destra La destra La destra La destra Oh eccoci qua E che è successo Ah se sono sfondati i letti All'improvviso Ora devo tornare indietro Teniamo sempre la destra Anche al ritorno E dovremmo esserci Perfetto E mi son bloccato No non mi son bloccato Però Ma abbiamo un problemino qui Non sbaglio Ci sono i letti Ma non posso farci nulla Ora rimane la questione Del mio bottone Che io in teoria posso Utilizzare Questo non so che cosa fa Che cosa serve Più che altro Io ce li ho Potenzialmente I cosi Ah ok Lo sapevo che qualcosa Era un casino Ma come ci arrivavo lì Cioè ci potevo arrivare O non viene il dubbio Che ho tipo mezzo barato No in realtà come ho fatto a barare No non si può barare Perché Cioè puoi distruggerlo Non c'è scritto di non distruggere blocchi Ti diceva di restare in adventure mode Quindi se faccio così Immagino Che sia successo qualcos'altro E tipo devo saltare E abbiamo terminato Esatto Beh si è stata Devo dire Molto rapida Una mappa molto molto rapida Il concetto di base però Non era male Un escape room Non c'è pvp Non c'è pve Sono solo puzzle Carini L'unica cosa è che Ste notte qua Non ho capito bene Che cos'è che servivano Ma va bene uguale Questo è il tipello Che l'ha costruita Ma io vi dico Che per questo video È tutto Un po' più corto Del solito Ma va bene Uguale Vi ringrazio tantissimo Per la visione Vi conoscere mi piace Se vi è piaciuto questo video Iscrivetevi al canale Se ancora non lo avete fatto Se mi è su Twitter Instagram Facebook Ovunque voi vogliate Io vi saluto Ciao a tutti A tutti Ciao a tutti